Musica 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 faccia di brutto proprio proprio si vede che ha più rato il vento quel vericello un po' di trasfio la pianta lì mamma mia se gli fa un fiorone serio e gli altri denti sono tipo questo no no adesso ho peggiore peggiore a livello proprio generale praticamente così questo è il punto più questo è l'ingresso ma non è l'ingresso di grado ecco lo spielo vai adesso ci vediamo qui da vai Grazie, non è anche il tempo di farmi il botto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.